E dopo una breve pausa per un caffè sul bellissimo terrazzo degli Uffizi, siamo pronti a riprendere la visita delle sale del museo. Per questa seconda parte del tour, ci facciamo accompagnare dalle melodie dei madrigali, molto in voga nel Cinquecento delle corti italiane, cercando così di riprodurre l'atmosfera di quel periodo. Buona continuazione della visita degli Uffizi di Firenze. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.